3 anni del Sicilia.it, il primo anno di vita per Sanità in Sicilia.it, il giornale tematico sulla salute e sul mondo della sanità siciliana. Al Cinema Politeama di Palermo sono intervenuti in tanti per fare gli auguri ai due giornali online del gruppo editoriale che fa capo a Maurizio Scaglione, dal presidente dell'Ars Gianfranco Miciche, che ha fatto i complimenti anche al presidente della consulta giovanile regionale Alessandro Magistro per le recenti prese di posizione a Non è l'arena di Massimo Gietti, agli assessori Ruggero Razza, che aveva inaugurato l'avvio di attività di Sanità in Sicilia.it e Roberto Lagalla, assessore regionale all'istruzione, che ha sottolineato l'importanza di dare spazio a temi come quelli trattati dai due quotidiani online. Per finire con il direttore scientifico di Sanità in Sicilia.it, Totò Corrao, che ha fatto il punto sulla nuova stagione che il giornale online andrà a trattare.